Amici rossaneri, amici amanti del calcio, un saluto da Luca Zed, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, prima di iniziare il video, come sempre, vi ricordo, iscrivetevi al canale, è gratis, lasciate un like, è gratis, commentate, è gratis. Per voi è un click di un secondo, anzi di forse mezzo secondo. Per me è molto importante così il canale cresce e potrò sempre darvi il mio contributo giornaliero alle vicende del Milan, del calcio mercato, dello sport, del calcio diciamo, in generale. Vi ringrazio, vi ringrazio tanto se lo farete. Allora, sono ore importanti perché Giorab Chan, chi ha Giorab Chan, è a Milano, si è incontrato, si deve incontrare con Furlani per, spero, definire definitivamente il contratto per portare a casa Zierkze. Ci sono anche state un po' di tensioni perché a quanto pare il procuratore, questo Giorab Chan, ha tenuto ancora le commissioni molto alte, si parla ancora che non vuole scendere sotto i 15 milioni. Quindi la divergenza sussiste, la divergenza sussiste, ma insomma ci siamo solo noi sul ragazzo, c'è un po' di ombra della Juve, quindi insomma stiamo anche un po' attenti perché è un attimo che magari ci vola via. Però ci siamo solo noi, quindi dipende solo da noi, spero che Furlani non si perda in un bicchiere d'acqua per qualche milione e che si risolva tutto al meglio. Voi pensate che figura di merda potrebbe essere, senza concludere questo affare di Zierkze, sarebbe una cosa veramente da nascondersi in un buco per settimane. Quindi io sono abbastanza fiducioso, ormai credo che qualche milione si possa limare, non penso che anche Giorab Chan venne qua a Milano per poi dirci No, guarda, non tratto neanche, non scendo neanche di un milione e se lo volete così, se no, niente, penso che insomma ci sia trattativa, per cui speriamo bene. Detto questo, lo stadio ragazzi, lo stadio che non è lo stadio di San Donato, quello che dovremmo giocare noi del Milan, ma è lo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno. Lo stadio che avete visto in miniatura, sono iniziati i lavori, ragazzi, sono iniziati i lavori e questo fa presagire che non ci siano più intoppi per far giocare il Milan Under 23, che penso verrà ufficializzato nei prossimi giorni, che giocherà in Serie C. Quindi anche noi avremo la seconda squadra che giocherà in Serie C, che ci porterà, spero, tanti campioni, dove giocherà il nostro gioiellino Camarda e quindi sono molto contento. Lavori iniziati, stadio Solbiate Arno, Felice Chinetti. Quindi tutte le partite casalinghe dell'Under 23 verranno giocate lì. Sempre nel Varesotto, quindi orbita Milanello, insomma tutto questo bello rosso-nero nel Varesotto che mi piace tanto. Altra cosa che non è proprio di calciomercato, è una sfaccettatura di calciomercato, riguarda le volontà di Fonseca. Ovvero Fonseca preferirebbe, vorrebbe, come terzino destro, Matti Cash. Questa cosa mi fa molto piacere perché nel dualismo Emerson Royal e Matti Cash sono assolutamente a favore di Matti Cash. Quindi questa cosa un po' me lo rende un filino più simpatico. Parlo di Fonseca perché preferisce quello che preferisco io. L'Aston Villa vuole 25 milioni, prezzo molto alto, ma essendo costretto a vendere un po' di gioiellini per il free finanziario, credo che sicuramente la cifra calerà di parecchio. Io penso che si può trovare anche una cifra sotto i 20 milioni e speriamo che venga perché è un giocatore che mi piace molto. Quindi un bel terzino. Bene, sono molto contento. Speriamo si realizzi. Insomma, vedo sensazioni positive. Ecco, sensazioni positive. Giovedì mattina, ore 11.40, Ibraimovic, prima conferenza stampa dove si ufficializzerà Fonseca. E spero che, la cosa che spero di più è che contestualmente venga ufficializzato, visto che la trattativa è, insomma, la trattativa è bollente, è già ora di buttare la pasta, insomma. La trattativa è in essere e, in conclusione, spero che si ufficializzerà anche Zirzee. Sarebbe una bella cosa. Quindi ricordatevi, giovedì mattina, ore 11.40, Ibraimovic, prima conferenza stampa a Milanello, a Milanello, dove ufficializzerà Fonseca e, a Dio piacendo, anche Zirzee. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutto ciò. Iscrizione al canale, like al video e poi commentate, ovviamente, come sempre. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, buona serata.